Però ho dei nipoti, ho dei nipoti a cui voglio un bene incredibile, tranne il più piccolo, cioè a sei mesi mi sta sul cazzo da morì, è uno stronzo, è un pezzo di merda, io vi giuro, io mi impegno con lui, io vado a casa di mia sorella, cerco di fare le cose al posto suo per aiutarla, gli cambio il pannolino e questo urla, sbraita, me scarcia, me piscia in faccia, sto stronzo, dico ma porca troia, ma so tuo zio, ti sto ripulendo dalla merda e mi aggredisci, poi magari fra 6-7 anni te molesto lì a mutolisci, però nonostante questo io siccome veramente li adoro tanto i miei nipoti, ho pensato che posso fare per loro una cosa utile, cioè magari fare una di quelle cose che i genitori hanno un po' più difficoltà a fare, però lo zio si può permettere, e quindi ho pensato che sarò io a fare i miei nipoti il discorso sulla pedofilia, perché è importante spiegare ai bambini che cos'è la pedofilia, perché i tempi sono cambiati, i bambini hanno internet, se un bambino piccolo sente la parola pedofilo e non sa che cos'è, va su internet, se la cerca da solo, chissà che informazioni trova, chissà su che siti capita, poi magari un giorno io vado a prendere i miei nipoti all'asilo e il compagnuccio mi guarda e mi fa, io l'ho già visto, comunque mi sembra pure giusto parlare un po' seriamente di questi pedofili, perché poi noi comici ci fanno le battute, li sfruttiamo una cifra, bisogna dargli un po' di credito e anche bisognerebbe pure proteggerli un pochettino, sono una minoranza, quindi voglio dire, no? Allora, se ci pensate, che cos'è un pedofilo? Un pedofilo è una persona adulta che prova attrazione sessuale per i bambini e non è detto che commetterà un abuso, perché non è che un pedofilo è un pedofilo perché commette un abuso, non è così, non è che se tu hai una pulsione sei posseduto dalla pulsione, no? La maggior parte delle persone si controlla, è come il diabete, no? La maggior parte dei diabetici sa di avere il diabete e quindi si dà una regolata, solo una piccola parte dei diabetici non resiste e vangirà scopasse le torte, ok? Quindi, no, che poi questa cosa è veramente una cosa che dovremmo comprendere bene tutti perché noi sappiamo che anche se tu hai una perversione, no? La maggior parte delle perversioni che abbiamo tutti noi non le mettiamo in pratica, rimangono tutte qui. Io non ho mai rapito Sabrina Salerno per le galla a un palo della lap dance a testa in giù, vestita da sailor Jupiter, è tutto qui. Sarei curioso di sapere quanti di voi che si sono immaginati bene fin da subito la scena hanno realizzato immediatamente che Sabrina Salerno a testa in giù gli sborderebbero le tette dal costume. E adesso che sta scena stiamo comunque a immagino a tutti, vorrei sapere quanti hanno realizzato che se gli sbordano le tette dal costume a testa in giù probabilmente se soffoga. So pensieri miei, vedete? È tutto qui, è tutto qui. Quindi stavo dicendo, no? Prendiamo in esame una persona, un pedofilo che ha questa patologia ma non farà mai niente, ok? Quindi non stiamo a parlare dell'abuso, stiamo a parlare della persona, ok? Ci fa impressione anche così chiaramente, no? Non è una cosa scontata. Ma possiamo fidarci noi di questa sensazione? Perché se ci pensate a livello razionale, tra le varie parafilie che esistono c'è la coprofilia, cioè gente che si eccita con le feci. Mo, tra i due, chi vi piace di più? Rifletteteci un attimo. Così, a sentimento. Perché io a sensazione da una parte penserei, vabbè, io tollero di più il coprofilo, perché comunque non farebbe mai del male a nessuno, no? Nessuna cacca verrà mai traumatizzata, anche perché sei proprio per definizione merda, peggio di così non può andare. Però da una parte penso questo, ma dall'altra penso non dovremmo ritenere più normale una persona a cui piacciono altre persone, seppur piccole. Piuttosto che sì, uno che se scoprebbe un adulto ma rivestito di un pigiamino di diarrea? Cioè, mo, con chi andreste più volentieri a cena, regà? Non lo so, però, cioè, immaginate, con chi? Con uno che al massimo lo pizzicate che mentre state a mangiare ogni tanto spizza i ragazzini dei tavolini a fianco. O uno che per tutta la cena sta arrapato e sta lì e pensa, madonna, speriamo che sto cibo sia variato. Ora, un pedofilo che prova attrazione per i bambini ma non farà mai niente, eh? Non farà mai niente, è garantito. Secondo voi merita il nostro odio? Secondo me no. Secondo me meriterebbe un aiuto. Il problema è che noi non sappiamo come dargli l'aiuto perché? Perché il pedofilo noi riconosciamo che è un pedofilo quando fa una stronzata, quando fa una cosa brutta. Noi dovremmo trovare il modo di incentivarli a venircelo a dire prima. Sapete come, secondo me, potremmo provare? Con delle pubblicità. Sai ci stanno delle pubblicità che girano soprattutto in radio, che parlano alle persone che hanno dei problemi, tipo i debiti, no? Che li rivendicano proprio con questo entusiasmo. Sei un cattivo pagatore? Te sei rubato la pensione di nonna ben dopo quattro anni che era morta? E ogni tanto per avere un po' di credibilità te legavi i polsi ai polsi di nonna e la portavi all'ufficio postale tipo marionetta? Vieni da noi, risolveremo il tuo problema. Capito? Tipo un trucco del genere, no? Che una persona che magari ha riconosciuto da vero c'è una cosa? Viene da te e fa ciao, io ho visto lo spot che avete messo. Ah, prego, certo, si accomodi, non si preoccupi. Noi abbiamo trattato un sacco di persone, abbiamo aiutato tante persone come lei. Dunque, da quant'è che si eccita con le foto dei neonati? Ma io ho mai commesso un abuso? No, ma che scherzo, morirei dentro? No, pensi che una volta per disperazione per sfogarmi, siccome mio cognato fa le bambole confiabili, mi sono fatto fare una bambolina piccola, però poi non ce l'ho fatta, mi sono affezionato, lo culo, gli cambi i pannolini, è per i pannolini che mi servono 5.000 euro. Questa battuta la capisce solo chi ha dei figli e mi fa capire che è stasera. Però capito? Con un trucchetto del genere tu incentivi delle persone che sanno di avere un problema, li fai sentire protetti, aiutate, li porti da te e eviti che magari vanno fuori e te li puoi portare in un centro dove gli dai da una parte assistenza clinica, assistenza psichiatrica, li fai parlare, cerchi di capire e dall'altra li dai pure una stanzetta dove si devono sfugare un po' queste pulsioni. Quindi stanzette isolate dove ci stanno gli infermieri che sorvegliano e loro stanno lì e si fanno le seghe sulle foto dei bambini. Ora, mi rendo conto che nessun genitore donerebbe le foto dei bambini per questa causa, ma non tutti i bambini c'hanno dei genitori. Facciamo un bello Orfani Fans. Allora, il mio era solo un suggerimento perché poi sto cercando di trovare delle soluzioni a un problema che esiste e mi sembra giusto.